Musica Dunque, mi sono appena arruolato nella confraternita d'acciaio. Dovremmo andare a vedere che cosa hanno per noi ora. Buongiorno, c'è qualcosa che posso rubarvi? Molti di voi mi avete chiesto di unirmi alle enclave. Beh, prima di tutto, non so dove sia. Seconda cosa, c'ho due buoni motivi per rimanere qui. Due bellissimi motivi. La mia prima delle missioni è andare a parlare con il paladino Rahimi. Eccomi qua, salve. Buongiorno. No, devo parlare con lei. Sì, sì, sono io. E che ne so. Mi dovrai dare una missione. Ho una lettera di raccomandazione. Tra questa e il rapporto del Cavaliere Shin, possiamo parlare del tuo ingresso nell'ordine. Valuta bene. Vuoi davvero entrare nella confraternita? Ma guarda, in realtà c'ho proprio un ottimo motivo per venire qui io. Beh, perché no, dai. Uniamoci. Con le raccomandazioni del Cavaliere Shin e dello Scriba Valdes valuterò il tuo ingresso. Ah, quindi non siamo neanche sicuri di entrare. Ma prima, devo capire se sai gestirti in autonomia senza supervisione diretta. Certo, signora. Per rendere efficaci le nostre operazioni, dobbiamo stabilire relazioni positive con gli abitanti della Palacchia. Eh beh, prima però le avete cacciati. Se considerano una presenza benefica, sarà molto più semplice ottenere la loro collaborazione in futuro. Allora, c'è... Vabbè, un attimo. Signalano attacchi di cui ferrari su mercanti e viandanti nella zona sud-ovest della foresta. Probabilmente c'è un covo. Ok. Voglio che te ne occupi. Vai e estermina tutti, come al solito. C'è una roba di cui non sono sicuro in realtà. Ma comunque, Fallout 76 è molto prima rispetto a tutti gli altri Fallout. E nonostante questo, tecnicamente, la confraternita perché ha una fama così bassa? Perché sono nuovi o hanno già fatto merda? Siccome non conosco la lord di Fallout 1 e 2 ancora, perché ce l'hanno tutti contro la confraternita in questo momento? Beh, certo. Non ne conosco la pericolosità, ma se mi date un incentivo... Beh, la tua ricompensa è la mia considerazione di te. Vabbè, certo. Il mio amore, il mio affetto per te, il mio affettato. Non lo sappiamo con certezza. Vabbè, certo. Mi mandate in una missione suicida e non lo sappiamo. Va bene, che cosa mi ha dato? Wow! Ci siamo sprecati, eh! Uno steampack! Eh, dov'è sto covo? Ok. I Putman. C'hanno le armature, mamma! Mamma, voglio unirmi a loro! Ok, signora. Vado a chiedere, allora. Molto bene. Compi la missione e sarai dei nostri. Con tutti i diritti e le responsabilità di un membro a pieno titolo della confraternita d'acciaio. Ad victoriam. Ad victoriam, anche a te, sorella. La retta di raccomandazione mi è stata tolta, mannaia. Volevo tenermela. Era scritta a mano da lei. Tavola rotonda della confraternita d'acciaio. Bello. Donde stas la mia destinazion? De la? Qua in fondo, eh. Non è molto lontano rispetto a casa mia. Potrei andarci a piedi. Almeno risparmi i soldi. Nah. Tieni 43 tappi. Sto a posto con me stesso. Che belle queste giornate autunnali, mentre nella realtà nevica. Eccoci arrivati al rifugio. Vediamo se qualcuno sa qualcosa. Buondì, salve. Oh, guarda, un libro. Wow, è proprio un libro questo, non è una rivista. Buondì, c'è qualcuno? Eh, che è successo? Ah, ok. Mamma, papà. Chi credi di essere per il rompere così? George. Ehi, tu. Buongiorno, salve. Niente mosse azzardate. Sì, ma non mi minacciate tutti quanti. Sto... Sono con la confraternita io. Sono con la confraternita. La confraternita? Ancora? Oddio. Ma quanta gente c'è qui? Ah, ecco, c'è un altro. Abbassa l'arma, George. Dunque, perché... Sì, ma io vorrei vederla, signora. E ne parliamo come tra persone civili. Va bene, signora. Mettete giù le armi e io metto giù l'ascia. Allora, signora. Lei è il capo qui. Non ti viene a presentarti così in casa d'altri. Dovevo bussare? È un buon modo per prendersi un'intossicazione da piombo. Duh. Ha le palle, la signora. Lui è George. Sì. Mio marito. L'avevo capito. Ora, perché non ci spieghi come mai ti trovi qui? Potremmo concludere la cosa amichevolmente. Eh, a voglia, signora. Vorrei avere delle informazioni sui ghoul. Intendi quei soldati con l'armatura pesante che sono stati qui di recente? Sono stata io a riferire... Non l'avrei mai detto, signora. Oh, quelli della confraternita sono il massimo. Reclutate. Sì, io sono nuovo. L'attrezzatura è fantastica. Eh, è vero. Però, ragazzi, lasciate parlare noi. Esatto, prima i genitori. Sì, signora. Mi dica tutto. Non ne siamo sicuri. Ma abbiamo un sospetto. Beh, sempre meglio di nulla. Ho capito. L'unico posto che mi viene in mente è il frutteto Orwell. Che sia quella la fonte degli attacchi? Hai intenzione di ammazzarli tutti? Mi suoni un po' sospetta, signora. Però sì, voglio fare pulizia. Non sei in missione per la confraternita? Lo fai per loro, non per noi. Beh, anche per voi, eh. Ma questo non significa che non siamo grati per i rischi che stai correndo. Bravo, signore. Dove ci sono Ghoul, ci sono Radix. Un po' di Rad-Away o di Radix? Beh, possiamo privarcene. Grazie, signor George. L'idea di ripulire il posto. Ottimo. Stai facendo un favore alla gente della zona? Questo è certo. Non l'avremmo detto. Stati più sicure portano a commerci più sicuri. Esatto. Se ci riuscirai, la confraternita si farà sicuramente parecchi amici. E lo spero, perché non è ben vista, eh. Grazie di tutto, io vado. La prossima volta che passi, comportati bene. George ha il grilletto facile. Un fucile. Bravo, George. Posso reclutare i due ragazzi, eh? Potrei guadagnarci qualcosa, effettivamente. Quella, giovane. Vorrei proprio entrare nella confraternita. So di non essere forte come mio fratello, ma uno sveglio vi servirà, no? Certo, potresti fare lo scriba. Sei sicuro di volerlo fare? Lo sono. La fattoria non fa per me. La confraternita potrebbe cambiare il mondo. Voglio aiutarli. Voglio reclutarmi. Non so. In realtà... Potrei raccomandarti in qualche modo. D'accordo, mi sembra giusto. Farò di tutto per guadagnarmi quella raccomandazione. Bravo, Colin. So che anche mio fratello lo desidera. E per la mamma può andare solo uno di noi. Oh, cavolo. Eh, allora dovrò scegliere. Dovrei parlarne anche con tuo fratello. No. Voglio dire... Sì. Sì. Se vuoi. Eh, beh. Una decisione importante. Quando vuoi sono qui. Bravo, Colin. Beh, tuo fratello non mi sembra totalmente sveglio e tu potresti essere un buono scriba. Però... Sembra uno abbastanza forte da poter fare il cavaliere. Devi portarmi con te. Sono pronto. Me lo sento. Sarò come il cavaliere Shin che è stato qui. Mmm. È vero vorresti farlo? Certo. Il loro arrivo è la cosa più emozionante che mi sia capitata da... Da... Sempre. Chissà perché lo immaginavo. So che sembro un bambino capriccioso. Ma dico sul serio. Farò tutto quel che serve. Certo. Puoi arruolarmi? In realtà... No. Cioè, nel senso... Se mi aiuti, forse potrei farlo. Oh, ma certo. Vedrai che ti ascolteranno. Sarò di grande aiuto. Ma tu vuoi davvero me? Non voglio cercare di dissuaderti. Ma non sono l'unica opzione. Sono la scelta migliore. Sono il migliore, certo. Però c'è anche quel coio di mio fratello. Va bene. Ne parlerò anche con lui. Oh. Sì. Certo. Ha risposto allo stesso modo. Sono la scelta obbligata. Non che Colin non sia valido. Ma non è adatto alla confraternita. Ciccio. Non è che esistono solo i muscoli, eh? Non vorrei decidere fammelo sapere. Ok, io penso che alla fine lui possa essere un soldato, lui possa essere un grande scriba. Quindi vorrei dire che qualcuno dovrà occuparsi delle cose dietro le quinte. Quindi, Colin, vorrei che tu venissi con me. Scelgo te, Colin. Incredibile. Di niente. Tu, va avanti. Devo parlare con i miei genitori, salutarli e quelle cose lì. Ci vediamo ai frutteti Orwell. Va bene. Saluta mamma e papà. Marty, mi dispiace. Siamo quasi ai frutteti. Spero che il ragazzino non sia morto. Ehi là. C'è qualche ghoul qui? Individua l'origine dei ghoul. Eh, c'è un cadavere. Magari posso scoprire qualcosa? No. Però ci sono altri cadaveri qui. Mmm. Che sia questa l'origine? Lo scopriremo tra poco. Entra nel bunker. Com'è che siamo arrivati alla scoperta di questo bunker? In quale modo? Perché sono entrato in casa? Vabbè, andiamo a vedere. Ma tu com'è che sei già qua? Cioè, come sei arrivato qui? Come l'hai scoperto? Che io sono appena arrivato? Bel vault, comunque. Cioè, bel bunker, più che vault. Ehi là. Tutto bene? Ehi, sei qui? Sembrava il posto giusto. Ebbè. Ho dovuto evitare tutto quel che c'era fuori. E poi ho sentito dei rumori qui dentro. Quindi mi sono rintanato ad aspettarti. Beh, ti sei rintanato proprio nella tana del lupo. Vedi tu. Concentrati. Seguimi, guardami le spalle e ne usciremo alla grande. Non preoccuparti. Sono assolutamente pronto. Spero che tu sia armato. Bravissimo. E là. Madonna. Ero uscito un attimo io, eh. Sono uscito un attimo. Andare a rompere tutti i materiali. Mica non ho aspettato sto assalto. Crepa. Bastardo. Ti sfondo il cranio, eh. Sembrano morti? Eh, lo spero, Colin. Sembrano morti. Dove è finito Colin? Ah, eccolo. Io sono uscito un attimo ad andare a rompere tutti i materiali che avevo raccolto. E questa è l'accoglienza. Ma che bello. Allora, Colin. Mettiti giù. Bravo. Eccoli là. Falli fuori, Colin. Falli fuori. Ma, come è rimasto in piedi? Ma porca. Aia. Aiuto. Mi stanno a me là. Sei ferito? Ah no. Ha detto, credo sia finita. Ok. No, questo è malato. Uff. E niente, mi sono preso una malattia. Ottimo. Vieni, Colin. Ce n'è ancora uno. Buongiorno, eh. Mamma mia. Che bello spaccagli in faccia il fucile. E siamo anche saliti di livello. Ottimo. Fai attenzione, Colin. Ce ne potrebbero essere altri gruppi ora. Ad esempio, questo qui era malato. Quindi l'abbiamo dovuto sopprimere. Questo invece è un inseguitore. Uccidi un gulferale. Altri punti per me. E credo che abbiamo finito. Perfetto, questo posto ora è pulito. Allora, Colin. Tutto bene? Ottimo. È stata un'esperienza, no? Un'esperienza sul campo. Niente male, Colin. Sei stato bravo. Dovresti proprio andare a Fort Atlas. Diventerai uno scriba. Lo farò. Grazie ancora per avermi tenuto in vita e per questa occasione. Beh, non sei stato male. Bravo, Colin. Grazie. Figno. La situazione è tutta a posto. È un concorso su cose simili. Rieccoti qui. Hai compiuto la missione assegnata, candidato? Eh, hai voglia. Ho pure trovato un candidato nuovo. Ah, questo spiega l'arrivo del giovane Colin Putnam. Ragazzo sveglio. Sarà un ottimo scriba. Non ha una grande opinione di lui. Ma se supera l'addestramento base, avremo trovato un nuovo scriba. Perfetto. Valdessa sarà felice. Né sicuro. Però basta che non me la ruba. Ottimo lavoro. Grazie, signor. Posso avere una ricompensa ora? Solo ho ottenuto ciò che ti avevamo chiesto. Ma hai anche ampliato il nostro ordine e contribuito a difendere la futura di una fatica. Perché sono bravo. Hai visto, signor? Pertanto ti conferisco lo stato di iniziato in prova nella confraternita d'acciaio. Yes! Perdonami, ma dovremo rimandare il rito ufficiale di iniziazione. Oh no. Abbiamo un problema e dobbiamo risolverlo al più presto. Perché c'è sempre un problema? Se hai qualcosa in sospeso, occupatemi in fretta. Torna da me quando vorrai iniziare. Va bene, signora. Grazie. C'è sempre qualche problema di mezzo, eh? Dannazione alla vita. Per fortuna che abbiamo trovato un'arma al plasma, va? Almeno è qualcosa. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.